Dopo tanti anni, un 25 aprile, festa della liberazione, che ha rivisto del movimento. Per due anni non si era celebrata, prima era una festa stanca, ormai logora, perché è lontano il tempo della liberazione, troppo lontano, sono addirittura vivi ancora in pochi di quelli che l'hanno davvero fatta, molti la celebrano. Ieri c'è stato gran movimento e si potrebbe dire, allora siamo contenti, perché torniamo ad un punto fermo della vita del nostro paese. Invece no, non siamo contenti perché il movimento c'è stato per l'Ucraina. Allora bisogna dare le armi all'Ucraina perché i partigiani combattevano con le armi o non bisogna darle perché al fondo della guerra di liberazione c'è la pace. La discussione è durata in maniera più o meno caotica tutto il giorno. Poi le parole esaustive del Presidente della Repubblica, di fronte al quale io minchino perché è il mio Presidente, però mi dispiace, non ha detto una cosa corretta. Ha detto al Presidente della Repubblica, una mattina mi sono svegliato, sono le parole di Bella Ciao e ho trovato l'invasore. E allora si riferiva alla guerra partigiana? Sì, diceva proprio per questo motivo l'invasore russo in Ucraina e l'invasore in Italia devono essere messi sullo stesso piano e sullo stesso piano la resistenza. Ma i tedeschi erano invasori in Italia? No. No, Presidente, adesso io voglio bene a lei, voglio bene a tutti quelli della sua generazione che è un po' subito prima della mia, però i tedeschi non erano invasori in Italia, erano alleati degli italiani. Noi li avevamo voluti come alleati e quando sono cominciati a sbarcare gli americani in Sicilia, nella sua terra, e lì erano invasori, ci sono state anche battaglie contro pochi fascisti che resistevano e ci sono stati morti italiani in Sicilia perché quello era l'invasore, altri italiani hanno detto guarda, secondo me alla fine vinceranno americani e inglesi, andiamo con loro e lasciamo perdere i tedeschi. E ci fu il 25 luglio che buttarono a mare Mussolini, ma Badoglio disse la guerra continua e quindi eravamo ancora in guerra con gli americani e al fianco dei tedeschi. Poi l'8 settembre in cui si fece l'armistizio, in cui si fece una resa unilaterale e passiamo dall'altra parte, il re in fuga a Bari, naturalmente non lo dico per lei che lo sa benissimo, lo dico per chi mi ascolta che magari si è confuso, il re in fuga a Bari e noi da un certo parte dell'Italia in su, nel nord cominciamo a sostenere la resistenza, la guerra partigiana con le armi, sì ma contro chi? Contro l'invasore? No, contro altri italiani che combattevano a fianco della Repubblica di Salò, italiani da una parte, italiani dall'altra. Era guerra contro l'invasore o era guerra civile? Era guerra civile. Perché subito dopo il 25 aprile ne abbiamo fatto una bandiera della resistenza e del fronte nazionale di liberazione, perché ne avevamo bisogno per presentare una classe politica all'estero che fosse dignitosa, perché quella di prima aveva perso con Mussolini onore e dignità, ma noi dovevamo ridarci onore e dignità, ma sono tutte questioni politiche, non sono questioni militari, non sono questioni di eroismo contro l'invasore, sono questioni di opportunità politica che per fortuna l'Italia ha scelto la parte giusta, ha lasciato andare la parte sbagliata, lo aveva già fatto in tante altre occasioni di cambiare a metà, pure all'inizio della prima guerra mondiale. E questo va raccontato ai ragazzi, questo va raccontato nelle scuole, non che quella guerra partigiana era uguale a questa resistenza ucraina. Per un paradosso, questa resistenza ucraina ha molte più ragioni, perché si tratta veramente del russo invasore, che già lo era stato per molti anni oppressore. Noi i tedeschi li avevamo scelti, li abbiamo traditi, li abbiamo abbandonati, questa è la verità storica. Il resto sono parole che si sono usate il 25 aprile, bene, giustamente, per passare dalla parte giusta e farci dare il piano marscia. Oggi si usano a sproposito e bisogna stare attenti a non confondere le idee degli studenti, dei ragazzi, dei giovani, perché altrimenti non si sa dove finiamo.